Nel 1524 infuriò in città un devastante incendio che distrusse molte case nel periodo medievale. Ciò avrebbe potuto dare alla città un duro colpo dal quale non si sarebbe ripresa così intretta. Ma il destino fu generoso con i suoi cittadini. Il XV e il XVI secolo fu un periodo di prosperità per la città e la gente iniziò a ricostruire le case. La vicinanza e le relazioni commerciali di villa con l'Italia si facevano sentire anche in architettura. Le nuove case della città furono costruite in stile rinascimentale e questi edifici dominano ancora l'immagine del centro della città. A quel tempo un uomo famoso viveva periodicamente a Villach. Un suo ritratto si trova nel Renaissance-Senshof, cortile del Rinascimento, e mostra a paracenso il famoso medico, scienziato, alchimista e filosofo. In suo onore la città di Villach premia scienziate e scienziati meritevoli con il Paracelsus Ring.